Se girato girù, 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 in Champions League, noi ce ne andiamo in Champions League, noi ce ne andiamo in Champions League, in Champions League, noi ce ne andiamo in Champions League, e voi siete un pubblico di merda, e voi siete un pubblico di merda. l'ultimo coro lo capirete nel video ciao a tutti eccoci qua ragazzi buongiorno a tutti e bentornati a spasso col tringa la macchina infernale il tringa sempre presente iscrizione campanellina pollice in su per il tringa doppio pollice per il diavolo primo commento per team maglie calcio codice sconto tringa per fare i vostri ordini pagamenti alla consegna ragazzi l'eccellenza per quanto riguarda tutto il vestiario sportivo tutte magliette delle migliori marche e di tutte le vostre squadre preferite italiane, europee e mondiali descrizione video prima di tutto Matteo Chiamente il Milanista qualunque scrivetevi da Matteo tutti i miei social del gruppo Telegram allora ragazzi quarto posto conquistato sul campo con una prestazione non eccezionale soprattutto nel primo tempo ma una fase difensiva perfetta allora andiamo subito ad analizzare la partita di ieri sera e il primo giocatore di cui vorrei parlare è proprio Olivier Giroud se è girato Giroud se è girato Giroud se è girato Giroud un gol strepitoso Olivier Giroud l'uomo dei gol pesanti e ancora una volta una qualificazione passa dalla sua testa Olivier Giroud una qualificazione o comunque una partita importante viene portata a casa e dà dei risultati grazie a lui ieri sera Davide Calabria Olivier Giroud per l'ennesima volta una coppia perfetta si cercano e si trovano e Olivier Giroud dimostra ancora di essere in questa stagione l'unico perno offensivo di questa squadra le parole di Stefano Pioli a fine gara ne parleremo tra poco ma andiamo ad analizzare la partita primo tempo di non con poca qualità ma ma tanta intensità da tutte da parte di tutte e due le squadre una Juventus che ci mette gamba però poi comunque anche loro non fanno una grandissima partita ecco mi dispiace come sottolineare come tu tanti tifosi del Milan sottolineano sottolineano soltanto le azioni pericolose della Juve e si dimenticano di parlare dell'azione di Tonali del tiro di Messias delle due azioni di Tonali del tiro di Messias e via dicendo cioè si parla solo quando fa comodo e si analizzano solo le cose che fanno comodo allora nel post partita Allegri dice che loro sul campo hanno 69 punti tu sul campo hai quelli che hai perché ti meriti di avere quelli che hai il campo o non il campo conta poco anche perché tu tutti quei punti li hai fatti proprio grazie alla penalizzazione perché comunque chiaramente una squadra all'inizio può risentirne a livello psicologico ma poi chiaramente si compattano e probabilmente la Juve ha fatto più di quello che avrebbe fatto in un campionato normale quindi se tu oggi sul campo hai fatto quei punti devi soltanto dire grazie alla penalizzazione caro il mio Allegri che come al solito si distorce la realtà ognuno dice il cazzo che vuole quando invece tu i punti che hai sono quelli ti tieni quelli anzi ti meriteresti di stare in serie B con la tua squadra di merda comunque andando avanti fase difensiva eccellente Maliccio Malicciao strepitoso ieri sera non sbaglia praticamente niente insieme a Ficto Mori che è un po' più confusionario in qualche occasione ma comunque fa il suo protegge bene spesso è in anticipo bene bene i due centrali Davide Calabria non spinge moltissimo quando lo fa lo fa con intelligenza ed è lui che mette l'assist per Olivier Giroud Teo Hernandez Stefano Pioli nel primo tempo gli chiede di stare basso non sempre lo fa e dalla sua parte arriva qualche contropiede pericoloso della Juve nel secondo tempo Teo Hernandez molto molto meglio centrocampo Sandro Tonali e Rade Krunic Rade Krunic ha giocato un'ottima partita secondo me una buonissima partita a livello tattico a livello a livello tattico chiaramente in un paio di occasioni ha fatto qualche errore di superficialità però poi non possiamo considerare la partita di Rade Krunic una partita non più che sufficiente perché a livello tattico è stato molto importante le solite frasi fatte su Rade Krunic c'è a me sta gente che continua imperterrito a parlare su Rade Krunic sottolineando solo gli errori e non parlando mai delle cose buone che fa a me questa gente mi sta veramente sui coglioni comunque lasciamo perdere Sandro Tonali il cuore di questa squadra è lui che combatte su tutti i palloni è lui che lotta in ogni zolla di campo quindi Sandro Tonali è un cuore rosso-nero ormai conclamato ormai questo giocatore è allo spirito di questa squadra lì davanti Raffaleau nel primo tempo nullo Gattilo riesce a marcarlo bene con l'aiuto di Quadrado nel secondo tempo ha fra i piedi la palla del possibile 2-0 con le sue sortite comunque mette a pressione alla difesa della Juve anche se comunque non è nella serata migliore Brahim Diaz bene mi è piaciuto ha combattuto su ogni pallone ha spesso sradicato palloni dai piedi degli avversari ha fatto il box to box chiaramente non è il suo ruolo perché non è il suo ruolo fisicamente non può farlo però si spende non lascia mai niente cioè lui Brahim Diaz quando finisce la partita è sempre esausto e questo è importante da sottolineare Junior Messias la nota negativa di ieri sera Junior Messias ragazzi imbarazzante imbarazzante cioè io Junior Messias lo metto allo stesso livello di Charles de Quetetra e il servo al caso serve al cazzo sbaglia troppo non riesce mai a fare un cross decente poi ogni tanto prova a tirare magari la palla va anche verso la porta però è sempre la stessa Suso numero due Suso numero due è sempre la stessa cosa non cambia mai giocata e vabbè lasciamo perdere speriamo che nella prossima stagione arrivi qualcuno di meglio Alexis Selemachers quando è entrato chiaramente fa molto di più di tutto quello che ha fatto Messias nei minuti che ha giocato Alexis Selemachers è un giocatore che riesce a mettere elettricità e io penso che in questa squadra un giocatore come Alexis Selemachers serva ecco ci si lamenta di quando di come spesso venga preferito Junior Messias ad Alexis Selemachers nel primo minuto ragazzi è questa la risposta è molto semplice è molto chiara Alexis Selemachers quando entra dalla panchina cambia qualcosa Junior Messias fa fatica dal primo minuto figuriamoci dalla panchina cioè diventerebbe praticamente inutile uno come Junior Messias Olivier Giroud Olivier Giroud ragazzi tanta 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 roba perché questo giocatore non possiamo fare altro che ringraziarlo applaudirlo sostenerlo per quello che ha dato in questa stagione l'unico attaccante l'unico giocatore veramente di 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 peso che abbiamo lì davanti Olivier Giroud è vero che ha avuto anche lui i suoi momenti in cui ha fatto fatica legati a tante cose al mondiale e via dicendo però ragazzi Olivier Olivier Giroud non si può discutere non si può discutere per quello che mette in campo per il cuore e per l'attaccamento che ha in questo momento a questa maglia si è legato ai tifosi si è legato al Milan e Olivier Giroud è anche un altro spirito e un cuore di questa squadra Balloturè è bene quando è entrato e Divo Corighi Divo Corighi ha fatto ragazzi allora Divo Corighi aveva fatto due o tre allenamenti questa settimana contro la Sampdoria non c'era perché aveva un piccolo infortunio infortunio è entrato bene ha fatto una sgroppata che non avevamo mai non avevamo mai vista fare da da Divo Corighi io ripeto se dovesse arrivare l'offerta giusta probabilmente Divo Corighi andrà anche via però io penso che il Milan per offerte sotto i 10 milioni non debba nemmeno pensarci non abbiamo bisogno dei 5-3 4-5-6 milioni di Divo Corighi secondo me è un giocatore sul quale si potrebbe puntare anche come alternativa a Leao o comunque per mettere del peso in attacco provando ad avere soluzioni diverse chiaramente Stefano Pioli dopo la partita parla e mi è piaciuto mi è piaciuto perché finalmente sentiamo delle richieste da parte di Stefano Pioli Stefano Pioli chiede giocatori forti a prescindere dall'età e via dicendo se si vuole competere in tutte e due le competizioni ci vogliono giocatori forti ci vogliono giocatori che per status riescono a spostare gli equilibri ci vogliono giocatori che prendono iniziative e si prendono delle responsabilità ragazzi in questi giorni partiremo un po' parlando di calcio mercato io qualche notizia da darvi ce l'ho perché ci sono tanti nomi accostati al Milan ma poi sostanzialmente i giocatori veramente fattibili in questo momento per iniziare sono 2-3 chiaramente il Milan ha bisogno di fare un mercato da almeno 7-8 giocatori dai 6 agli 8 giocatori chiaramente ci saranno delle cessioni importanti come la diante Rebic Ballotouré è destinato ad andare via Aster Franks è destinato ad andare via Serginio Destre è destinato ad andare via si valuteranno le richieste per Yasin Adli e Charles de Ketlari si valuterà anche Divo Corighi se ci saranno delle richieste ripeto alle quali che non si possono rifiutare probabilmente Divo Corighi potrebbe anche partire però attenzione perché non è così scontata la partenza di Divo Corighi così come fanno capire tanti e se ve lo sto dicendo pensateci quantomeno non è una verità perché come sapete io non ho la verità in tasca però pensate quando vi dico una cosa perché lo sapete che se parlo non è perché mi piace parlare così tanto per fare Brahim Diaz ragazzi onestamente Brahim Diaz è complicato tenerlo il Real Madrid potrebbe volerlo chiaramente in questi casi conta anche la volontà del giocatore che è chiaramente quella di restare al Milan però chiaramente anche il Milan in quella zona di campo deve fare qualcosa deve fare qualcosa non dobbiamo alzare il livello ci sono tante zone di campo sulle quali il Milan e la dirigenza dovrà pensare ecco un discorso che non mi piace che ho letto in tanti commenti sotto il canale Youtube AC Milan e in vari canali allora come si faccia fatica a dare la colpa ma non la colpa a dare le responsabilità di quello che è stato fatto sullo scorso mercato a Paolo Maldini tutti parlano dei soldi spesi cioè il commento più facile da trovare questa proprietà deve spendere no ragazzi questa proprietà ha speso quello che poteva chiaramente quello che poteva ma tutto quello che poteva spendere lo ha dato in mano a Paolo Maldini poi col senno di poi è facile criticare Paolo Maldini per le scelte però è un dato di fatto che quello che si poteva spendere è stato speso e Paolo Maldini ha sbagliato praticamente tutto questo è il dato non è la proprietà deve spendere perché se pensate che la proprietà nella scorsa stagione potesse spendere 100 milioni no ragazzi perché comunque c'era un obiettivo anche societario che era quello di raggiungere una parità di bilancio adesso la parità di bilancio è stata raggiunta quest'anno sicuramente il mercato sarà molto più sostanzioso e ripeto se si spenderanno 80-100 milioni il mercato del Milan sarà un mercato importante probabilmente nessuna squadra può permettersi di spendere quello che spenderà il Milan e questa proprietà ha dimostrato che tutti i ricavati del campo vengono reinvestiti nella scorsa stagione il ricavato è stato quello ed è stato reinvestito in questa stagione il ricavato sarà oltre i 100 milioni e probabilmente la proprietà li reinvestirà è quello che ci ha insegnato questa proprietà e la scuffecchia proprietà con Elliot negli ultimi 3-4 anni quindi non vi fate non inventate vi stronzate che poi non stanno né in cielo né in terra niente ragazzi l'analisi della partita era questa io me ne vado in palestra ci facciamo una settimana tranquilli probabilmente stasera 21.30 o se ci sarà qualcuno 17.30 saremo in live per fare due chiacchiere per tirare le somme ora però c'è un obiettivo importante da portare a casa anche nell'ultima partita tanto mandare il Verone in B non sarebbe per niente male anzi io spero di mandare il Verone in B ma poi soprattutto raggiungere i 70 punti sperando che la Juventus non vinca contro l'Udinese e far star zitti definitivamente gobbi e pseudotifosi che pensano che questa qualificazione sia arrivata per vie traverse o per meriti di qualcun altro vi voglio bene a tutti sempre forza vecchio cuore rossone ricordate che su questa squadra si fa la vecchia maniera noi siamo vecchio stampo ciao a tutti